Che differenza c'è tra un elettrodomestico col motore inverter e un elettrodomestico senza motore inverter? Ciao raga, io sono Cherry Man e do consigli utili sul mondo dei grandi elettrodomestici in ogni social. Specifichiamo che il motore inverter è un motore che ruota tramite induzione magnetica e non come un motore tradizionale che gira tramite l'attrito delle spazzole al suo interno. Quindi nel momento in cui una lavatrice ha un motore inverter e questo motore inverter appunto al suo interno è senza spazzole, senza elementi striscianti, ovviamente genera meno rumorosità e ovviamente consuma molto meno rispetto a quello tradizionale. Tutto ciò porta la lavatrice o l'asciugatrice o il frigorifero o la lavastoviglie, tutto ciò che sia con un motore inverter ad essere un prodotto nettamente più performante. Ormai tutti i marchi si stanno adoperando a produrre elettrodomestici solo col motore inverter ma ancora c'è qualcuno che produce dei modelli di grandi elettrodomestici senza motore inverter. Ormai l'inverter è il futuro della tecnologia dei grandi elettrodomestici. Seguimi per avere i migliori consigli sul mondo dei grandi elettrodomestici in ogni social. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!